Quando la tua pelle ha sete di bellezza, Cleanance è la risposta. Scopri nella beauty routine l'intenso potere dell'acido ialuronico di Intense A Lifting Ruge, che aiuta ad aumentare la compattezza della pelle grazie ai suoi differenti pesi molecolari. Una formula con tre ceramili che ritardano la barriera di olio prezioso e impotenti nutrienti per la pelle. Per rughe ridotte naturalmente dopo due settimane. Perché tu vali.